In un periodo come questo, dove chiaramente al di là dell'assoluta mancanza di eventi, intrattenimenti, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto musicale, Sanremo ci ha dato un esempio in questo senso proprio di recente, volevamo dare un momento, quindi non solo artistico, ma anche socialmente un po' più attivo ai nostri ragazzi, quindi abbiamo creato questo contenitore che girerà sulle pagine social, quella che si chiama Follow the Future, la pagina sia su Instagram che su Facebook e all'interno di questo contenitore gireranno tutte iniziative un po' più fresche e giovanili come appunto la Music Battle, che è solo la prima di tante iniziative che porteremo avanti. Come è nata l'idea di questo contesto? Volevamo cercare di mettere in luce i tanti talenti che ci sono nel territorio di Montesilvano e della nostra regione, dell'Abruzzo, e quindi abbiamo pensato, grazie all'amministrazione comunale di Montesilvano, di creare questo contenitore che riguarda a 360 gradi l'arte, per poi dividerlo nella Music Battle, che invece è questo contest dedicato solamente alla musica e ai talenti di Montesilvano, che permetterà al vincitore di avere una prima release da professionista, quindi una produzione nostra, un video dai ragazzi di Photozone, mentre agli altri partecipanti comunque di essere ascoltati da professionisti del settore, che non è cosa da poco, specialmente in questi giorni dove non è possibile fare musica live, siamo tutti quanti a casa e quant'altro, quindi dare la possibilità di mettersi in mostra con la possibilità di essere ascoltati da professionisti del settore, questa era l'idea.